Musica Ben trovati, questa puntata di A Tutto Opponente non poteva che essere dedicata alle manifestazioni che hanno caratterizzato le scorse giornate, manifestazioni subito firmate dal coordinamento 9 dicembre dai Forconi ma che poi hanno preso una piega diversa, c'è stato il coinvolgimento di tante persone, di tanti studenti anzi il coordinamento ha addirittura preso le distanze al momento dei blocchi della circolazione che hanno appunto caratterizzato il lunedì e il martedì, giornata in cui Imperia è stata veramente paralizzata con blocchi nel casello di Imperia Est ma poi anche nei principali punti praticamente è stata isolata la città Nella terza giornata invece tutto si è svolto sotto il Palazzo Municipale con la presenza pacifica di un centinaio di persone che questa volta non hanno bloccato il traffico ma hanno manifestato sotto Palazzo Municipale e sono state comunque identificate dalle forze dell'ordine Ad un certo punto una delegazione di manifestanti composta da tre persone è stata ricevuta in comune dal vice sindaco Giuseppe Zagarella, hanno dibattuto per molto tempo all'interno della sala giunta hanno poi consegnato al vice sindaco un documento che lui porterà a chi di dovere si è preso questo impegno Noi eravamo presenti con le nostre telecamere e con i nostri microfoni per testimoniare questa giornata Allora una mattinata lunga, assolutamente intensa all'interno del Palazzo Comunale ma senza blocchi, senza nessun problema a parte il fatto che giova a dire subito che non ci sono stati né scontri né cariche in nessuna di queste giornate noi l'abbiamo puntualmente riferito Oggi alcuni dei manifestanti sono venuti qui a Palazzo Comunale allora comincio da uno dei rappresentanti, siete venuti qui e avete incontrato il vice sindaco Zagarella, perché? Lo ringraziamo di averci accolto nel Comune perché la nostra protesta partiva proprio dal fatto che non abbiamo nessun tipo di confronto come è successo ad esempio ieri e l'altro ieri che hanno chiuso il Comune Oggi fortunatamente, forse anche perché la protesta è scesa un attimo con i toni il Comune si è presentato a parlare con noi anche se effettivamente, e dispiace dirlo, le domande che sono state poste in maniera diretta per aiutare i cittadini, che cosa il Comune possa fare sono rimaste abbastanza in evase, soprattutto nei tempi nel senso che sicuramente la programmazione del Comune va in un senso che va anche e sicuramente a favore dei cittadini però non abbiamo né tempi e né modi per far sì di sapere come vanno avanti questi lavori in Comune a favore dei cittadini Ecco, sintetizziamo un po' le varie richieste, ne avete fatte tante il discorso anche intanto di sapere i soldi delle vostre tasse, delle nostre mi permetto di dire, le tasse dove vanno a finire cioè perché non rimangono in Imperia, perché devono andare a Roma delle nostre di tutti Abbiamo chiesto delle lucidazioni su un comportamento che c'è nel Comune di Imperia per vedere dovevano finire i nostri soldi le problematiche di disoccupazione che è grandissima in Imperia le problematiche degli artigiani che non possono andare avanti di gente che non può lavorare, che non può pagarsi la spazzatura che aumenta tutto, il reddito di vita è troppo alto e ci hanno dato delle risposte sempre con tempistiche vaghe e lì aspettiamo adesso a vedere come evolge la situazione Ecco, chiedo scusa a Zagarella, terminiamo appunto un attimino una carrellata di richieste, di proposte Niente, a parte quello che ha detto lui che chiediamo lavoro, chiediamo di essere ascoltati soprattutto di essere aiutati dagli enti a andare avanti in questa protesta perché abbiamo bisogno del loro appoggio anche abbiamo bisogno del loro appoggio per andare avanti e arrivare a Roma Insomma, una protesta non per voi stessi ma per una collettività abbiamo ricevuto una bella notizia, adesso che tra un'ora ci chiameranno e probabilmente siamo riusciti a avere il colloquio col prefetto speriamo perché noi vogliamo arrivare a parlarci Ecco, Zagarella, poi arriviamo, sentiamo un attimo Zagarella, appunto risposte vaghe ma diciamo il comune può arrivare fino a un certo punto fin dove? Sì, beh, innanzitutto do un confermo io quando mi sono sentato un attimo adesso finito diciamo il momento di tavola di confronto ho sentito direttamente la prefettura ho fatto presente che avete chiesto di poter essere ricevuti e mi hanno confermato che c'è disponibilità e quindi che era in corso io anche adesso andrò in prefettura per un incontro con alcune associazioni di categoria quindi stiamo cercando di lavorare anche a questo scopo io invece ringrazio loro perché guardate noi da lunedì ci siamo dati disponibili ovviamente con quelli che in quel momento erano i nostri interlocutori cioè attraverso la questura, la prefettura abbiamo detto che noi eravamo assolutamente disponibili a ricevere eventuali delegazioni ma pareva non era stata fino ad oggi manifestata la richiesta questa manifestazione ha delle composizioni in maniera forse anche scorretta ma ieri è stato chiesto e c'erano gli organi di polizia di sotto ieri pomeriggio comunico loro non lo sanno ma che non sono riuscito a entrare a palazzo non sono stato tenuto come dire mi è stato richiesto espressamente dalle forze dell'ordine di non avvicinarmi perché mi ero allontanato momentaneamente dal palazzo e quindi purtroppo non sono potuto riuscire a entrare io personalmente c'era qualche momento di preoccupazione le forze dell'ordine hanno preferito evitare che potesse succedere noi eravamo lontani dal palazzo eravamo lontani quello è da chiarire non li abbiamo assaltati dal palazzo noi eravamo sempre lontani voglio dire questo l'amministrazione comunale appunto è disponibile sempre a confronto con i cittadini se è un confronto civile come quello che c'è stato adesso non si è mai tirato indietro rispetto al confronto con i cittadini e non intende farlo ci ho detto questa manifestazione io ho chiesto espressamente che una volta che il segnale del disagio esiste un profondo disagio sociale dovuto a problemi occupazionali che non è solo imperiese sia chiaro è un problema che è su tutto il territorio nazionale una pressione fiscale che oggettivamente non sta consentendo alle imprese di sopravvivere livelli occupazionali che precipitano aumentano le casse e le mobilità piuttosto che le disoccupazioni totali imprese che non possono fare programmazione quadro normativo assolutamente incerto per le imprese, per i cittadini ma anche per gli enti locali ho chiesto una volta che il segnale arriva forte e chiaro cerchiamo di limitare il disagio che anche gli stessi nostri concittadini oggi vivono perché il segnale arriva ed è arrivato con forza è arrivato già il 9 oggi occorre mettersi tutti insieme a lavorare noi lo stiamo già facendo da tempo e ho illustrato a loro tutto quello che sta cercando di fare il Comune alcune cose siamo partiti immediatamente io voglio dirlo con grande franchezza riuscire a sbloccare determinati interventi e effettuare 10 milioni di lavori pubblici nel corso di un anno solare grazie a dinamiche di finanziamento alla ricanalizzazione la riorganizzazione di tutte le procedure affinché si sbloccassero canali di finanziamento della Regione Liguria, del Ministero e soprattutto della Comunità Europea per riqualificare la nostra città e dargli anche un rilancio futuro di prospettive dal punto di vista turistico e quant'altro oggi però nell'immediato ha consentito a tante imprese locali di poter uscire dalla cassa integrazione questo è un primo passaggio l'amministrazione sta cercando di lavorare su altri aspetti che possono essere le leve fiscali per incentivare poter abbassare i costi fissi di gestione alle attività che oggi hanno degli affitti improponibili sta cercando di operare chiaro che su questi dare dei tempi certi noi in questo momento soprattutto senza avere le norme certe non siamo in grado di farlo dal punto di vista delle manifestazioni una cosa lasciatemela dire non tutti sono come i tre signori che oggi voglio ringraziare hanno chiesto di essere ricevuti e io con grande piacere ho avuto la possibilità di confrontarmi con loro purtroppo ho l'impressione che nella sua globalità i promotori dell'iniziativa 9 dicembre abbiano un po' l'hanno detto anche loro purtroppo ci sono stati si sono già dissociati loro oggi io lo dico lo ribadisco il segnale è arrivato forte e chiaro noi insieme a loro io ora mi recco in prefettura e dirò già mi sono fatto copia del vostro documento che mi è stato lasciato dirò che vi ho incontrati che avete lamentato questo tipo di problemi ho detto quello che potevamo fare noi e quello sul cui stiamo cercando di lavorare noi e chiederemo anche alla prefettura oltre che utilizzare i nostri canali diretti come ente locale che comunque non sono gli stessi della prefettura che è palazzo di governo chiederemo anche al prefetto di farsi parte attiva nel segnalare che questi problemi esigono una risposta da parte del governo centrale e da parte del Parlamento che è ormai diventato e ho anche fatto presente questo e questo lo faccio presente direttamente ai nostri governanti anche ad alcuni amici che io personalmente ho che in questo momento ricoprono ruoli di responsabilità a livello nazionale io dico ricordatevi sempre che gli 8500 comuni sono veramente a contatto con i cittadini dateci la possibilità di lavorare dateci la possibilità di lavorare per dare risposte al disagio sociale al rilancio del nostro tessuto economico alla possibilità di attivare servizi sempre più dignitosi sempre più efficienti ricordatevi che ogni passaggio che voi fate è come giusto che sia è guardato con la lente di ingrandimento e laddove ci sono sprechi o dissipazioni di risorse per cose che oggettivamente non ci sono mancati tagli Zagarella perché alla fine si chiedono i soldi sempre agli stessi tagli noi il Comune d'Imperia col mancato ritrasferimento IMU ha avuto un taglio importante oggi noi capiamo che ci sono delle esigenze importanti perché se ci sono se esistono dei servizi nazionali indispensabili anzi molti di questi dovrebbero essere anche potenziati penso al servizio della sanità penso alle situazioni in cui si trovano oggi le forze dell'ordine che hanno deficit di personale penso a tanti servizi però magari si vedono inutile che adesso entriamo nello specifico anche alcuni casi che sono particolarmente eclatanti io lancio anche una proposta che potrà sembrare demagogica ma in un momento come questo io penso che forse occorrerebbe fare una attenta valutazione su quelle che sono le procedure ad esempio con cui alcuni soggetti di grandi gruppi partecipati dallo Stato stanno percependo delle liquidazioni che io non esito a definire vergognose in un momento di grave difficoltà sociale o alcuni soggetti specifici percepiscono pensioni che non sono neppure lontanamente paragonabili su base mensile a quello con cui vivono 10 famiglie su base annuale allora io penso che da questo punto di vista visto che si parla molto spesso di soldi pubblici occorra fare noi siamo partiti dal primo giorno e questa giunta sapendo quella che era la situazione di difficoltà l'ho detto a loro si è applicata le indennità inferiori ai minimi di legge penso che questo segnale lo debbano dare anche nel nostro Parlamento realinearsi ai valori dei parlamentari della comunità europea che sono decisamente diversi e che a un certo punto occorre rendersi conto che quando si amministra la cosa pubblica si deve rendere conto eticamente di quello che si lascia ai nostri figli il problema è che appunto un solo parlamentare con tutti i portaporse eccetera eccetera costa più di un'intera giunta comunale e questo questo forse è il problema vero voglio anche dire una cosa voglio che lo si sappia gli amministratori locali non sono neanche lontanamente paragonabili i nostri consiglieri comunali hanno un gettone di presenza Pumatti lo sa che non paga manco la pizza perché facciamo magari consigli di dieci ore quindi non è questa la casta io voglio dirlo con grande forza la casta non sono coloro che tutti i giorni sono a cercare di mandare avanti una una come si chiamano quelle una carretta del mare ok i comuni oggi sono una carretta del mare e i comuni io lo voglio dire con loro si incontra con loro si incontra i remi sono loro i remi siamo noi i remi sono i dipendenti comunali che magari vengono insultati da da qualcuno che con loro non c'entra niente che si mescola quindi però le carrette del mare devono essere messe almeno nelle condizioni di poter navigare in bonaccia ecco da questo punto di vista è Roma che ci può aiutare quindi io personalmente andrò a dire perfetto queste cose sono certo che saranno dette cose analoghe perché ci siamo confrontati a lungo il problema è che ovviamente i rappresentanti dei cittadini dei manifestanti che sono eterogenei quindi anche loro immagino siano in una certa difficoltà a rappresentare una collettività che varia giusto? ecco il problema è che voi chiaramente dite noi il comune ce l'abbiamo qui come facciamo? che dobbiamo fare? come stavi dicendo prima si è non chiesto ma almeno espresso il pensiero se il comune come il buon padre di famiglia possa ad un certo punto decidere di gestire le nostre entrate nel comune quindi le tasse che paga il comune cittadino in maniera differente perché da buon padre di famiglia io se devo pagare le tasse e dar da mangiare ai miei figli io do da mangiare ai miei figli noi vorremmo che il comune si comportasse con i cittadini allo stesso modo né più né meno se quello che va a Roma e viene sprecato e loro sono consapevoli del fatto che viene sprecato non deve più andarci non deve andarci tutto può andarci in parte parte deve essere riversato sul territorio per aiutare le famiglie le aziende e tutto il tessuto sociale che rende l'Italia il paese che è perché i comuni sono l'Italia noi siamo l'Italia tutti quanti i cittadini e non ci sono altri modi per fare l'Italia siamo solo noi io adesso ho un appuntamento in prefettura chiedo e ribadisco di interrompere le manifestazioni il segnale è arrivato chiaro penso che sia arrivato chiaro a Roma non a Imperia a Roma già così sapete che l'amministrazione è al fianco del disagio di quello vero sapete che l'amministrazione non non si scosta di mezzo millimetro rispetto a chi pensa di strumentalizzare determinate cose e quindi anche di mettere in difficoltà voi che magari volete organizzare determinate cose determinati segnali di protesta e pensa anche di compiere degli atti che io ho giudicato in maniera molto dura e ribadisco molto dura noi abbiamo avuto situazioni che non avevano non dovevano verificarsi in questa città sono contento che non ci siano stati comunque scontri oggi però occorre ripartire rendiamo conto che un margine di rischio c'è sempre in queste cose perché quello che non c'è stato fino ad oggi può succedere domani ma non perché loro esatto voi rischiate per primi è logico loro lo sanno se ne sono resi conto quindi io sollecito se l'intento era quello di lanciare se l'intento vero era quello di lanciare un segnale chiaro penso che questo sia arrivato sono contento che sia stato esplicitato perché inizialmente non si capiva noi il primo giorno ci chiedevano di passare dall'euro alla lira e voi capite bene perché qualcuno gridava magari più forte di altri ci sono delle situazioni reali di disagio su queste noi come amministrazione l'ho detto non abbiamo la bacchetta magica ma ci stiamo già lavorando a questo punto per la città per i nostri concittadini per cominciare a raffreddare gli animi loro hanno detto vorremmo costituire un comitato di cittadini noi siamo disponibili a interloquire sempre e comunque civilmente con chiunque l'abbiamo detto siamo sempre qua a questo punto però occorre che si riparta che ripartano i servizi che non mettiamo in difficoltà le imprese che oggi sono la serrata c'è stata hanno aderito anche i commercianti io lo voglio dire anche a nome dei commercianti che il primo giorno è che questi messaggi però arrivino veramente a destinazione ci sia qualcosa perché vede Zagarella il discorso è questo se lei mi dice se lei mi dice che ci potete ascoltare ma voi non avete gli strumenti per portare la nostra voce la nostra parola dove dovrebbe arrivare e allora noi cosa facciamo a parlare con voi noi le ho già spiegato che noi stiamo intervenendo già da tempo attraverso il canale ufficiale del comune che è l'Anci l'associazione nazionale dei comuni italiani quindi poi non è escluso per quello che ne so l'Anci potrebbe anche ha già fatto più di una anche di una manifestazione simbolica ci sono trovati davanti a Montecitorio con le fasce se ci saranno manifestazioni di questo tipo non escludo che partecipiamo oggi però noi abbiamo un interlocutore il mio carico me lo faccio immediatamente andando adesso al palazzo del governo presso la prefettura e rappresentando a sua eccellenza il prefetto quello che voi mi avete detto per me il primo passaggio perché la comunicazione arrivi a Roma è questo il secondo è poi personale io personalmente chiamerò di questo poi le chiedo un atto di fiducia che parlerò con deputati assessori e forse anche con qualche ministro della repubblica segnalando che su determinate cose non si può continuare ad andare avanti così lo stiamo già facendo perché noi giochiamo sulla nostra pelle anche la nostra credibilità quotidiana io glielo ho detto sono qui prestato a un'avventura sulla nostra credibilità noi giochiamo su su queste ok cioè lei si deve togliere lei va fuori di qua lei va fuori di qua lei ha un lavoro ma io non ce l'ho con lei sia chiaro Zagarella io non ce l'ho con lei personalmente no ma lei deve sapere lei è la persona più chiara ad oggi con la quale siamo riusciti a parlare ok e va bene allora il discorso è questo il discorso è questo voi vi giocate la faccia vi giocate la reputazione con il futuro dei nostri figli con quello che stiamo cercando di fare però io voglio essere chiaro o si toglie in questo paese questa idea sciocca per cui chiunque si occupi di cosa pubblica anche facendo un'attività intensa di ore ore con spirito di servizio magari per anni è casta oppure non si è capito nulla se non si capisce che siamo sulla stessa barca non si è capito qualcuno l'amministratore lo deve fare qualcuno deve fare il sindaco qualcuno deve fare il sindaco io magari da Maricela lei capisce la nostra richiesta la nostra richiesta assolutamente quando qualcuno ha proposto diciamogli di andare a casa mandiamoli tutti a casa tanto levati loro arriva qualcun altro quindi non è non sono le persone da cambiare è il sistema che deve assolutamente essere cambiato ma se non parte da noi cittadini a richiedere a loro di far cambiare questo sistema che cosa possiamo fare che cosa abbiamo in mano per noi loro sono il nostro referente loro sono quelli che dovrebbero prenderci per mano sentire le nostre cose e andarle a riportare basta simbolicamente visto che voi vi recrete in prefettura e io mi sto già recando in prefettura se volete vi aspetto e vi presento io a sua eccellenza il prefetto cioè Roma in questo momento è qui fisicamente 500 metri più avanti a destra chiaro? allora noi su questo non ci tiriamo indietro per essere chiari e se volete che all'incontro con sua eccellenza il prefetto presenzi anche l'amministrazione non ci sono problemi io posso anticipare che adesso vado là perché è un incontro con associazioni e categorie e come li ho già fatti presenti per telefono farò presente che avete rappresentato questa esigenza di essere ricevuti che secondo me rappresentate oggettivamente tutta una serie di aspetti legati a malessere per i quali il comune da solo non può farcela quindi da questo punto di vista insomma primo segnale vi sembra noi vi ringraziamo io chiedo il contro segnale per piacere nei limiti del possibile di quello che siete in grado poi di coordinare perché noi di evitare cioè esatto siete portavoce ma cercare di evitare i blocchi questo è il messaggio noi abbiamo dimostrato di saper seguire le gerarchie passando dal comune arriveremo alla prefettura però dobbiamo veramente mi raccomando dobbiamo essere ascoltati ricevuti e che si faccia veramente qualcosa perché abbiamo dimostrato tanti a Imperia ieri sera dicevano commercianti e non commercianti ah tanto domani la gente ha perso è finito tutto stiamo dimostrando cosa è capace di fare il popolo quando si arrabbia però noi abbiamo deciso di manifestare e passare per le gerarchie è oltretutto bene che questa rabbia sia rimasta contenuta negli slogan negli sfoghi sacrosanti senza fare danni voi sapete però appunto il problema è che può sempre purtroppo capitare qualcosa quando c'è una folla non identificata diversamente però è anche lecito e giusto esporre i propri problemi e protestare noi ringraziamo naturalmente Zagarella e i rappresentanti dei cittadini ma sono tantissimi e molti sono fuori all'esterno del palazzo comunale e restiamo naturalmente a disposizione come dovere di servizio come è giusto che sia per continuare a sentire le istanze le proposte le controproposte sperando ovviamente che tutto vada bene soprattutto dal punto di vista di quello che chiamiamo ordine pubblico che vuol dire sicurezza di tutti noi per primi di voi anche che manifestate chiaramente e questa era la situazione una situazione comunque in continuo svolgimento nei prossimi giorni potrebbero esserci nuove manifestazioni ma non c'è alcuna certezza in ciò come avete sentito la manifestazione che era nata su questioni nazionali si è poi spostata su questioni prettamente locali cittadine con numerose problematiche sollevate dai manifestanti per il momento è tutto ci fermiamo qui grazie come sempre per l'ascolto appuntamento alla prossima settimana arrivederci a Grazie a tutti.